ragazzi buongiorno vi ricordo per chi volesse sostenere gratis questo canale un clic iscrizione e soprattutto attivate la campanellina occhio perché il cinese ha già adottato ha già adocchiato quagliarella ha già chiamato Sky il cinese tra l'altro ragazzi visto che ho aperto Instagram stamattina me lo avete chiesto di tantissimi mi fa piacere interagire con voi lo sapete che io scusate voi sapete benissimo che ormai io rispondo sempre a tutti perché a me piace interagire uno dei motivi principali per cui sono su YouTube è proprio questo interagire con voi perché io mi diverto con voi voi vi divertite con me e quindi fate iscrivere i vostri amici al canale degli esonerati una piccola diciamo infarinatura su eh l'ennesimo commiato della gazzetta dello sport al cinese perché lì vengono fatti commiati visto che è in uscita gli hanno fatto un' intervista via WhatsApp non si sa come ma gli hanno fatto un' intervista ma non è un' intervista infatti sono cose che scrivono loro cinese parla di stadio di sostenibilità cioè una società una proprietà che non mette soldi da tre anni e mezzo questo parla di stadio sostenibilità nessuno però gli chiede ma come mandagli un fax ma come sostenite non mettendo soldi ad accumulando debiti siamo siamo sempre sostenere comunque ragazzi zanghe che parla di sostenibilità finanziaria già questo ti fa capire tante cose no ma veniamo a noi sono le soldi azzate scrive per giornale lì veniamo a noi la Lazio eh l'inter non vince a Roma nel duemiladiciotto diciannove non mi ricordo l'ho scritto nel titolo le ultime cinque partite hanno fatto un punto è una squadra di gioco nel quattro tre tre Sarri non è l'ultimo degli allenatori a livello tattico attenzione a sottovalutare Sarri anche loro partono diciamo con loro sviluppano il gioco da dietro un po' come facciamo noi e ed hanno un centrocampo diciamo anche loro strutturato molto simile a quello nostro perché perché hanno una hanno una mezzala diciamo inserimento barra difensiva un play e una mezzala regista come Luisa Alberto che è il nostro che era il nostro ce l'hanno nuovo l'anno scorso per esempio quindi eh a a livello diciamo di struttura a centrocampo sono molto simili a noi davanti davanti a noi immobile e il loro punto forte secondo me sono gli esterni e sono Zaccagni ed Anderson che in Anderson appena vede l'Inter non si sa perché ma questo tutte le orte i che vedi in nero azzurro fa gol occhio agli esterni occhio agli esterni della Lazio perché sono forti hanno gamba sono veloci sono scaltri puntano la porta sono tecnici sono bravi negli spazi stretti gli esterni della Lazio secondo me sono il punto di forza e sono quelli che ci potrebbero dare più noia ora io ti dico contro eh io lo chiamo Tarzan per scherzare perché è grosso fa paura contro Bissec io non ho nulla io ti dico che a livello difensivo per me non è pronto e leggendo la formazione sembra che eh ho letto la formazione dovrebbe fare il terzo il braccetto io non lo metto il braccetto contro Zaccagni Bissec perché Zaccagni ci va a nozze con Bissec ragazzi a questo punto Bissec prova lo quinto anche perché Darmian ormai nell'ultimo anno lì si ritorna sempre all'età dei giocatori inter squadra più vecchia della serie A Darmian non ha più il passo per fare tutta fascia Darmian ha incominciato a giocare molto di posizionamento quindi io metterei Darmian terzo di difesa spero che Zagli lo faccia e alle brutte Bissec lo puoi mettere eh tutta fascia tanto davanti c'è Mariusic che non è un fuori l'asse non è uno ti rompe le scatole in fase offensiva ma Bissec terzo di difesa io non lo metterei contro Zagli lo so che Zagli non è un fuori l'asse ma è un ottimo esterno ragazzi io ve lo dico non è una partita semplice anche perché non siamo a dieci punti dalla seconda capito quindi a Roma è sono tanti anni che non vinciamo sono quattro cinque anni che non vinciamo bisogna stare attenti perché poi loro come ho detto prima vengono da una vittoria nelle ultime cinque partite in classifica una classifica molto brutta mi sembra che sono a pari punti con il Monza sotto il Monza se non sbaglio quindi loro sono assetati di punti sono assetati di vittoria e soprattutto vogliono fare bella figura davanti al loro pubblico perché anche Roma è una piazza difficile ci sono tanti bugugni io ho amici della Lanza daranno il cento per cento Sari sta facendo discorsi motivazionali da una settimana negli spogliatoi attenzione ragazzi tanto per non entrare troppo nel tecnico per non fare professore che non sono perché io non sono un professore di agio senza entrare troppo nei tecnicismi secondo me come la puoi mettere in difficoltà la Lazio la Lazio è una squadra che è alle distanze molto corte gioca sempre molto stretta e si muove e si muove con dei meccanismi meccanici giù vanno avanti avanti dietro destra sinistra ma sono sempre tutti stretti i cambi di gioco li mettono molto in difficoltà io l'ho visto giocare un di volte ma questa è una caratteristica che avevano anche l'anno scorso i cambi di gioco li mettono molto in difficoltà ecco e lì potresti sfruttare poi dopo le fasce però io spero sicuramente Bisse che ha dimostrato di avere un'ottima falcata ha dimostrato comunque di essere migliorato nell'uscita palla ma a livello difensivo io questo ragazzo non lo vedo assolutissimamente pronto mentre tutta fascia come qua come nella partita dell'ultima partita che ha fatto l'ha messo tutta fascia con darman dietro a coprirgli le spalle le spalle in quel ruolo non puoi far danni alle brutte non fai nulla ma non puoi far dei grandi danni soprattutto se ricordi l'avversario ecco io lo farei giocare uguale ma dietro come terzo tengo darmian Bisse che lo metto quinto non lo metto mai terzo soprattutto contro la lancia negli esterni al suo punto di forza ci becchiamo dopo ciao ciao a tutti ciao a tutti Grazie.